Quarto nucleo. La condivisione. Attraverso la disciplina si acquisita la consapevolezza dell'equilibrio possibile anche nelle differenze, difficoltà, dualità. La moderazione fa da contrappeso all'entusiasmo che conduce ora a fulmine intuizioni, ora a stati miracolosi di serendipiti. La consapevolezza di tali processi deve condurre al controllo della parola coniugata alla velocità del pensiero. Devono essere strumenti della comunicazione e pertanto devono essere portate con garbo e quiete. La potenza senza controllo non è nulla. La perseveranza nell'azione di risveglio del sé superiore richiede concentrazione e dedizione, quindi l'impulso alla ricerca sulla spinta dell'entusiasmo è fondamentale, ma poi la capacità di andare oltre quello ed entrare nel nuovo sé completo richiede impegno costante, quotidiano. Porre attenzione al proprio lavoro induce l'attenzione al lavoro altrui. L'altro da sé, infatti, è ancora elemento di dualità. Il lavoro di gruppo è lavoro di consapevolezza e rispetto. L'essere forti e pieni di entusiasmo non comporta affatto il dominio sull'altro, ma la conoscenza del suo mondo. Con queste basi ora, il lavoro si può dispiegare sulle due principali linee di sviluppo dell'esperienza spirituale. La linea verticale, che è quella del rapporto diretto con Dio, intimo, personale e sempre in costruzione. La solitudine e il silenzio agevolano aspetti rinunciabili della meditazione individuale. Si cerchino luoghi, momenti, spunti, ovunque, per poter mettere in atto questo distacco a favore del ritrovamento del proprio rapporto con il sacro. L'altra linea è quella orizzontale, quella dello scambio e della condivisione paritetica tra le persone, sia compagni di viaggio spirituale che persone incontrate occasionalmente. Non dimentichiamo, infatti, che il nostro lavoro deve essere in continua espansione verso l'esterno, verso tutti gli esseri umani con i quali veniamo in contatto. Questo non è semplicemente una sorta di esercizio spirituale. Questo è l'unico modo per esperire il contatto vero con le persone, quelle che scegliamo come riferimento delle nostre riflessioni, delle nostre attenzioni, delle nostre necessità esperienziali. Infatti, gli incontri verso i quali ci dirigiamo nel cammino sono lo specchio del nostro grado di consapevolezza, sono lo specchio di quanto siamo noi stessi, e quindi sono parte integrante di quella figura che dentro di noi guarda verso l'alto in direzione del cielo e della volta stellata, e l'altra che da noi si proietta in orizzontale e attraversa chi ci è vicino, e dalla quale veniamo attraversati noi stessi in continuazione, il quale fenomeno, collegando noi tutti in una rete di contatti, rende il processo irreversibile. A causa di questa invisibile rete, che unisce tutta la specie in sottili maglie e grandi reti di pensiero articolato, è fondamentale la qualità che poniamo in qualsiasi parte del tracciato ci troviamo. Questo svelamento è fondamentale per la comprensione della via che non finisce. Questa è la condivisione.